Let's go! Benvenuti ovetti nell'ultimo episodio di Super Mario RPG. Oggi affronteremo Fabbro Magno. Prima però volevo sistemare un po' la squadra perché ovviamente vi sconsiglio di usare l'amuleto di Christax o la medaglia paratrupa. E ovviamente anche... dov'è? La medaglia fantasma. Perché Fabbro Magno può usare praticamente di spell un po' come Christax, quindi non è particolarmente buono avere questi buff iniziali. Tuttavia posso dire che sono decentemente buoni se non vi usa di spell. Però lo userà, quindi attenzione. Quindi... non devo modificare davvero niente? Ok. Assicuratevi di avere un bel po' di sciroppi. Andiamo! Grazie a tutti! Ehi! L'ultimo frammento stellare è là! Eh? Avete già finito il giro della fabbrica? Bene! Che ne dite di una piccola dimostrazione? Ehi, Fabbro Magno! Smettila di produrre tutte quelle armi e dacci il frammento stellare! Ah? Allora tu, baffettone, saresti Mario, eh? A quanto pare dovremo contenderci il frammento stellare. Dammelo subito! E vattene dal mio castello! Oi, oi! Siamo nervosetti oggi, eh? Sai, questo posto sta cominciando a piacermi. Ti prego, non torturarci oltre! Dacci il frammento stellare! Adesso! Ti piacerebbe? Perché invece non mi date i vostri frammenti stellari? Così il mondo sarà mio! Potrò eliminare tutti i desideri e creare un mondo pieno di... armi. Fatevi sotto! Ora! Vi concerò per le feste! Comincia la battaglia finale contro Fabbro Magno! Però prima, attaccate! Non Fabbro Magno! Ma Siviero! Dovete sconfiggerlo! Fidatevi di me! Chiaroveggenza! Debole a tuono, vero? Sì, perfetto! Sputo fuoco e non solo dopo i pasti. Già, ehm... Fabbro Magno! Intanto colonna fatale! Non si può parare, fa pochi danni perché abbiamo il guscio XL. Però, Siviero, Siviero, sì, ok, ho detto bene. Può spawnare nemici extra. Attenzione! Inoltre, ehm... Non ha un'alta difesa speciale, per questo sto usando i salti. Tu, invece, mio caro, utilizza Chiaroveggenza su Fabbro Magno. Debole a niente! Ovvio, no? Eh, niente male! Niente male cosa? Sai che ti abbiamo letto la mente, eh? Sciamme di meteore! Lo può usare perché... Frammento stellare? Fa comunque male! Fa comunque decentemente male! Per questo ho portato Princess Peach. Ed eccolo qui! Il Neo Pugnaldo! Non fa niente, non voglio neanche attaccarlo, in effetti. È... Molto meh! Può usare Pioggia di Spade, che è difesa impossibile. Può farvi un po' di danno, ma neanche così tanto. Elettroscarica! Ora! Ancora non l'ho sconfitto? Colonna fatale! Ok, dice che è fatale, ma non può farvi KO istantanei. Quindi attenzione. L'ho sconfitto? Ancora no? Bene! Ora sì! Oh, oh, giusto! Peach non ha molto attacco. Potrei usare l'ultrasalto, ma non conviene. Voglio andare per stage. Ok, quando chiude gli occhi mi sa che vuol dire che abbiamo sconfitto Siliero. Se è così sto a posto, vero? Perfetto! Splish! Meglio distruggere gli adds, insomma. Nel senso, le aggiunte alla battaglia. Perché adds sembra un'altra cosa, in effetti. Terapia di gruppo! Courami! Grazie. Mario. Anche lui è un'alta difesa speciale. Non ricordo. Vediamo un po'. No, va bene. Qualunque tipo di attacco. Adesso però, visto che posso cambiare un po', perché non cambiare un po'? Non che serva tanto, per carità, ma volevo far partecipare tutti quanti i membri della squadra. Mi sembrava brutto non farlo. Padella! Comunque bellissima questa host. Vediamo un po'. Faccio più danno fisico speciale. Più speciale, ok. Quindi Bowser dovrebbe usare queste sue mosse. Però 16. E' un po' troppo di punti fiore. Raggio ardente! Mi ha mancato. Ma per una volta forse l'avrei parato. A questo punto, vai Gino! Gino! Potenziamento Gino! Ho detto che non è particolarmente buono se usa dispel. Ma se non lo usa, faccio tanti danni con Mario adesso. Anziché forse vi consiglio di andare a comprare allo stagno Gino. Intanto vai in mallo, perché ci servirà a breve. Lo strumento che aumenta l'attacco a tutto il gruppo. Però abbiamo Gino, quindi non serve. Gino! Raggio stellare! No! Calma, ti fa Bromagno! Hai la testa che sembra un geyser! Non agitarti così! Ti si alza la pressione! Questa piattaforma è stata costruita ieri e ancora non è molto stabile! Quindi, smettila di colpirla così! Che fastidio! Ma cosa? Ma cosa succede? Sono furioso! Nessuno mi aveva mai fatto una cosa del genere! E' arrivato il momento! Di mostrarvi la mia vera forma! Vedrete di cosa sono capace! Vi insegnerò il significato della parola rispetto! E mi vendicherò! Fatevi sotto! Insegnificanti insetti! Comincia la vera battaglia finale contro! Fab Bromagno! Colpitelo sulla testa! Mi raccomando! Indicatore plus non che serva tanto! Mallow! Chiaroveggenza! Non colpite il suo corpo! E' praticamente inutile colpire il corpo! 7530 punti vita! Non sei niente male! Potrebbe essere un problema! Gino! E' immune ai colpi critici! Quindi, Gino! Fatti da parte! Vai, Peach! Padella! Fa meno danno, ma non importa! Fab Bromagno! Può cambiare la sua testa! E' diventato nella forma tank! Quando è in questa forma! Ha un'alta difesa fisica! Usate attacchi speciali! Mallow! Ti va un lampo blitz! E' debole al tuono così! Vi ricordo che non siamo neanche... Non siamo neanche... Ok, al livello massimo! Ma non serve essere al livello massimo! Peach! Slam! Ok! Fortunatamente non è così complesso come boss! Questo posto però mi spaventa davvero un sacco! Perché ci sono tutte queste teste qui! Vai! Mallow! Lampo blitz! Tuono! A breve... Dovrebbe cambiare ancora testa! Il fatto che non lo faccia mi spaventa un po', se devo essere sincero! Inoltre... Ho in mente... Un bel modo per finire questa battaglia! Però per farlo devo scannerizzarlo ogni tot! Perché voglio sapere quanti punti vita gli sono rimasti! Sì, tecnicamente andrebbero scannerizzate tutte quante le teste che ha! E' a quasi metà! I macchinari di precisione come me devono fare attenzione alla corrente elettrica! Lo dice anche! Lo dice anche! Oh! Attenzione! Ok! Mi sa che è in questa forma che può fare una mossa che one-shotta! Beh, finché non la fa! O se non è questa forma! Buon per me! Salto! 400! Ok, perfetto! Splish! 200! Eccolo qui! Cambio forma! Bing! Bing! Ehm... Ok! Può avere altre forme! Ve lo giuro! Però finché non le fa, posso solo parlarvene! Questa è la forma tank! Esiste anche la forma magica della sua testa! Intanto usiamo un altro lampo blitz! Ora! Perfetto! Ehm... E... Ok! Esiste anche la forma che sembra una scatola del tesoro! Quelle debole al fuoco! La forma magica è resistente a tutti gli elementi! Esiste anche una maschera che sembra più una bara! Cannonata fatale! Ecco qua! Inefficace! Uhuhu! Bene! Ehm... E poi esiste... Basta! Sono quattro le forme! Come siamo messi? Lo so, sembra brutto scannerizzarlo ogni tot, ma c'è un motivo! Ok? 1.800! Ok! Va benissimo, guarda! 1.800 vuol dire che adesso siamo a circa 1.800 sempre! Ok? Allora, salto! Vem! 490! In realtà adesso siamo a 1.200 circa! Facciamo un bel lampo blitz! L'ho mancato? L'ho mancato! Potresti mostrarci un'altra testa? Sarebbe bello! Far vedere le altre teste di Fabro Magno? Cannonata fatale! Ok! Questo potrebbe essere un problema! Quindi usiamo! Dov'è? Ce l'ho! Ehm... Bibita, tirami su! Heel! Grazie! Ehm... Chiara vergenza? Lo so, lo so! È bruttissimo! Però come boss finale non è per niente difficile, quindi... 847! Ok, perfetto! Allora so già che fare! Per un attimo è mancato l'audio! Ok! Difenditi, Peach! Cannonata fatale! Siamo immuni! Eccolo qui! Salto! Perfetto! Adesso! Difesa! Cambio testa! Ping! Ping! Per favore metti la testa... Ok, perfetto! È lo scrigno del tesoro! Infliggi anche parecchi status! Adesso! No! Cambia! Gino! Mossa a tre! Fine! Ho il corpo e la testa che vanno a fuoco! Non è possibile! Non ci credo! No! Ormai sono spacciato! Voi! Bruttificcanaso! No! No! Forza! Mario! Manda l'ultimo frammento al suo posto! Lassù! Manda l'ultimo frammento al suo posto! Grazie a tutti! La via stellare è tornata alla normalità! E... E... Manda l'ultimo frammento al suo posto! O... E... Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. See you next time, baby.